Salve a tutti e benvenuti ad un'altra recensione di I Tizzetti Blog. Inizio ringraziando ovviamente tutti quelli che hanno guardato con affetto la mia monografia di argento ed ovviamente era una monografia molto lunga, quindi insomma era per veri eroi romantici, per veri titani dei film argentiani questa monografia di un'ora e cinquanta. Prometto che per un po' di monografie non ne farò, ma farò recensioni di film, quindi massimo 15-20 minuti, così non vi tedio e siete tutti contenti. Mi spiace ovviamente per alcuni errori fatti nella scorsa recensione, ma insomma è rare umano e io ancora non sono un robot, a differenza dei Daft Punk. A parte questo, come avevo detto nella monografia di argento, che comunque vi linko nella descrizione sotto per chi se la fosse persa, farò proprio una recensione di un film del 1974. Per quanto riguarda questa recensione sarà molto particolare perché mentre diciamo le altre opinioni generalmente sono condivise e potete trovarle anche su altri forum, per quanto riguarda questo film io farò proprio una mia libera interpretazione di questo film e quindi con un'interpretazione quindi del tutto nuova e che io per ora non ho trovato in alcun forum. Per cui se vi va fidatevi, se no pazienza. Il film io proprio nella mia interpretazione lo collegavo a Profondo Rosso, quindi lo collegavo proprio alla filmografia argentiana ed alcuni elementi della filmografia argentiana ed è per questo che il secondo film che andrò a recensire è stato proprio fatto dopo la monografia di Daria Argento perché secondo me è un inutile collegamento sempre attraverso il mondo dell'impossibile, dell'irrazionalità. Questo, come vi dicevo, è un film del 1974 ed è il profumo della signora in nero. Profumo della signora in nero che a mio parere anticipa Profondo Rosso, non solo cronologicamente perché Profondo Rosso è del 1975, il profumo della signora in nero è del 1974. Non è solo un'anticipazione cronologica ma anche tematica. Qui il regista ci arriva prima e parliamo un attimo del regista. Il regista è Francesco Barilli. Chi è Francesco Barilli? Perché la maggior parte dei fan dell'oro sicuramente non lo conosceva. Io ne sono andato a conoscenza praticamente un mese fa di Francesco Barilli. È stato praticamente sia un attore che un regista. Attualmente è ancora ancora vivo e praticamente per quanto riguarda i film ha fatto uno, due, tre, quattro, cinque film in tutta la sua carriera. Però solamente due film legati all'horror. Uno è questo, l'altro è Pensione e Paura del 1978. Poi ha fatto, diciamo, altri film che fanno parte di altri generi e poi ha collaborato con il programma di Rytrag o Egeo per dirigere dei documentari. Quindi è un regista che nel mondo dell'horror è parecchio particolare perché ha fatto due film, quindi solo due film. Però, secondo la mia opinione, ha inciso parecchio. Cioè, Francesco Barilli, per quanto abbia fatto solo due film, è come se ne avesse fatti 200 film horror. Perché veramente questi due che ha fatto, soprattutto il profumo della signora in nero, hanno anticipato molte delle tematiche, molte delle tematiche argentiane. Allora, il profumo della signora in nero, attenzione perché spoilerizzerò parecchio di questo film, ma è inevitabile per fare la recensione di questo film, parla di una giovane donna, di nome Silvia, che praticamente, fin da piccola, ha avuto un trauma. E il trauma si basava sull'uccisione della madre. Crede di aver causato la morte della madre, in quanto Silvia era gelosa nel fatto che la mamma si era fatta l'amante, visto che il marito era un ammiraglio di flotta, per cui partiva e per dei mesi restava fuori casa. Silvia era legata al personaggio del padre, ed era legata soprattutto alle imprese del padre, che lei fantasticava durante, insomma, le sue giornate della infanzia, della giovinezza. E quindi l'amante è stato uno scossone durante la sua vita. E quindi lei si addita proprio la causa della morte della mamma. E questo trauma segnerà la sua vita. Però, come tutti i traumi, vengono pian piano messi nel dimenticatorio. E Silvia, man mano che cresce, quindi all'età, insomma, di circa 30 anni, si è dimenticata questo trauma. E innanzitutto ricordiamo che il tema del trauma è stato già ripreso proprio da Argento, che aveva diretto proprio un film che si chiamava Trauma stesso. Per cui il trauma infantile e ciò che segna la follia è un tema di matrice argentiana. Di matrice argentiana. Dopodiché cosa succede? Silvia si fidanza, e questo fidanzato lavora in Sudafrica, quindi ha dei lavori da svolgere in Sudafrica, e qui ha conosciuto un professore di sociologia africana, che mi pare si chiama Andy nel film. E un giorno, quindi, si ritrovano, Silvia, la ragazza, è questo professore di sociologia, e proprio il professore parla delle sette. Le sette segrete, le sette di magia nera, che in Africa, dice il professore, sono molto presenti. E questo sarà il secondo trauma, perché questa notizia traumatizzerà la nostra Silvia, e questo trauma porterà in luce anche il primo trauma, cioè quello della madre, e quindi della probabile concessione della madre, da parte della figlia. Questa serata sconvolgerà totalmente, sconvolgerà totalmente la vita di Silvia. Ferriamoci un attimo qui con la trama. Come ho già detto poco fa, la presenza del trauma è di matrice argentiana, perché Argento già nella trilogia degli animali aveva parlato di traumi infantili, del trauma che comporta, che comporta il diventare folli, il diventare irrazionali, e qui Barilli riprende il tema del trauma. Riprende il tema del trauma, ma secondo me lo anticipa anche su Argento. Risch, nonostante il tema del trauma sia stato già portato sugli schermi d'Argento, e riesce ad anticipare Argento, perché il trauma di cui questo film parla è un trauma molto particolare. Come viene proprio realizzato all'interno del film? Di come l'autore ne parla di questo trauma? È questa l'anticipazione che Barilli fa su Argento, non tanto la tematica, perché la maggior parte delle tematiche, vedremo, sono di matrice argentiana, ma quest'autore anticipa Argento in quanto le tratta in un modo veramente eccezionale. E Argento tratterà il trauma, come le altre tematiche di questo film, in modo simile a Barilli solamente dopo Profondo Rosso. Per questo io parlo di anticipazione, parlo di Barilli come un regista che è riuscito veramente in un compito arduo, è riuscito in un'impresa visionaria fantastica. L'altra tematica che introduco prima di andare avanti con la trama è la follia, è la visionarietà. E chi ha visto la monografia credo che abbia contato quanti milioni di volte io abbia usato la parola visionarietà. Perché Argento la visionarietà la usa? E la usa quasi in tutti i film, almeno fino agli anni 90 circa. E quindi la matrice è sicuramente argentiana. Ma Barilli fa della follia un elemento portante di tutto il film. Perché il protagonista del film non è Silvia, non è il sociologo africano, non è il finanziato di Silvia, non sono neanche tutte le... la miriade di personaggi che in questo film compaiono. Ma il personaggio è la visione, è l'immagine che crea la follia. Perché è la visione che crea la follia perché fa riemergere il trauma, fa riemergere in superficie il trauma. e difatti la nostra protagonista inizierà a vedere la madre, inizierà proprio a vedere scene in cui la madre si suicida, inizierà a vedere una misteriosa bambina che compare a casa sua e che poi si scoprirà essere se stessa da fanciulla. Quindi vedete come fino a un certo punto il film segue una trama, segue una logica. a un certo punto in poi il film è pura visione, pura immagine, pura irrazionalità. E questo è di matrice argentiana. Margento sfrutterà al massimo questo modo di ricreare la visione solamente in profondo rosso che è un film del 75. Mentre Barilli ci arriva un anno prima a capire come sfruttare la visione, come sfruttare al massimo la potenza visionaria e quindi la follia. E come si può sfruttare al massimo la potenza visionaria? La si può fare attraverso il disorientamento, la tecnica del disorientamento che è la stessa tecnica che Argento sfrutterà in profondo rosso. Però Barilli ci è arrivato prima e bisogna dargli un merito. Nessuno ne parla di questo film, pochissimi ne parlano di questo film. Eppure questo film è l'anticipazione di profondo rosso perché parla della visionarietà della visionarietà in quanto disorientamento per lo spettatore. Tema centrale di profondo rosso. Prima Argento ha parlato della visionarietà ma era un altro tipo di visionarietà era legato all'immagine che era la soluzione che era la soluzione del di tutto quello che era il giallo. In profondo rosso Argento utilizza la visionarietà per proprio disorientare completamente lo spettatore che non riesce più a seguire la trama, non riesce più a seguire il giallo, l'intraccio del giallo e così fa Barilli ma lo fa l'anno prima. La trama, queste visioni che Silvia ha sono delle visioni agghiaccianti perché vedere la mamma che si suicida quindi ricordarsi in un trauma infantile è agghiacciante. Così come agghiacciante vedere se stessi da piccole perché il fantasma della bambina che arriva a casa di Silvia è proprio Silvia il piccolo. Quindi la visionarietà che è un ritorno al passato e il passato molto spesso è agghiacciante perché nasconde scheletri, nasconde tasselli che erano rimasti negli angoli più remoti della nostra psiche. e grazie a questo professore di sociologia vengono fuori e per mezz'ora 40 minuti quasi un'ora di film noi vediamo queste visioni e siamo proiettati all'interno di queste visioni siamo proiettati in questo vortice vortice delle visioni e quindi vediamo un mondo totalmente razionale totalmente folle e non capiamo che cazzo sta succedendo perché da dove viene questa bambina perché questa donna queste visioni perché i vicini iniziano a comportarsi una stranissima stranissima totalmente irrazionale e l'autore non ce lo spiega non ce lo spiega perché questa qui ha le visioni perché questa qui inizia a un certo punto a vivere nel suo mondo e inizia praticamente a tornare con la mente al passato non viene spiegato e questo è il bello del film la potenza del film la visionarietà non spiegata ma non può essere spiegata l'irrazionalità non ha senso spiegare la follia e lo spettatore però questa follia la trova agghiacciante ed è questo l'orro non l'effetto speciale non il pupazzone che compara all'improvviso e fa prendere un colpo questo è agghiacciante è agghiacciante il fatto che io mi trovo in un vortice di visione un vortice di irrazionalità e non capisco più niente e se la capacità dell'uomo è quella di pensare Barilli ci mette nella possibilità di non pensare a nulla l'essere uomini questo è agghiacciante questo è proprio orrorifico cioè l'annullamento dell'uomo all'interno dell'irrazionalità all'interno di questo vortice in cui non si capisce niente ed è inutile che voi tentiate di capirci qualcosa di queste visioni però all'interno delle visioni l'autore inserisce degli indizi che sveleranno il finale che purtroppo sarò costretto un po' ad anticiparmi perché altrimenti non ve lo dirò però sarò costretto un po' ad anticiparmi degli indizi fondamentali per lo svolgersi della trama ma lo spettatore non sta più seguendo la trama non se ne accorge di questi dettagli o perlomeno li coglie ma non ci fa attenzione pensa che siano continue visioni e quindi pensa di essere catapultato ancora nell'irrazionalità e invece questi dettagli sono fondamentali per capire il finale del film ma lo spettatore non interessa più il finale del film perché è stato disorientato da queste visioni e quindi il bello del film è nel mezzo e sono le visioni che creano il film non il regista le visioni che creano il film quindi allo spettatore non possono fregare questi dettagli perché non ha più la capacità di pensare è stato totalmente annullato però Barilli è bravo è molto bravo a inserirsi questi dettagli perché quando arriva il fine del film poi uno ci ripensa appena si è rimesso un po' la testa a posto dopo il trip delle visioni lo spettatore ci ripensa dice porca misere cazzo questo dettaglio io non me ne sono accorto e lo stesso è che farà argento e profondo rosso inserirà nel film alcuni dettagli e dettagli visionari che fanno capire il finale del film che mostrano il finale del film però l'autore lo spettatore non ci fa caso ma non ci può fare caso perché in un vortice di irrazionalità cioè come quando uno vive in un trip di allucinogeni ma non fa mica caso la realtà circostante e così è il film di Barilli continuiamo con la trama a parte queste visioni di cui è inutile spiegare la trama perché vivono di irrazionalità completa e praticamente alla fine Silvia trova l'amante trova l'amante di sua madre che sta svolgendo un'attività di pellicciaio di imbalsamatore scusate non pellicciaio imbalsamatore fa tassidermia e lo vuole uccidere e quindi si vede una scena in cui lei uccide l'amante dopodiché ovviamente chiede aiuto al fidanzato per recuperare il corpo comunque perché scossa dopo un omicidio uno è scossa quando vanno sulla scena del delitto scena del delitto che è la casa dove Silvia è nata e questo è un dettaglio importantissimo perché il passato è un altro protagonista di questo film dunque vanno nel luogo dove Silvia è nata dove Silvia è ucciso l'amante della madre e l'amante sparisce e anche questo è una visione e vedete come le visioni e le immagini si intrecciano con la trama e questo è un altro merito di Barilli un'altra idea geniale di Barilli intrecciare il mondo visionario con la trama si allacciano e combaciano perfettamente in un film che è perfetto perché questi elementi combaciano perfettamente dopodiché Silvia rientra a casa e impazzisce completamente perché diventa completamente pazza perché anche lei si è annullata anche lei protagonista di questo vortice di emozioni si è completamente annullata si è completamente completamente annullata e quindi impazzisce vivere le razionalità si prende con sé la bambina e inizia a giocare ma a un certo punto la bambina fa un gioco particolare la bambina che è Silvia poi Silvia bambina fa un gioco con Silvia adulta e la porta al suicidio la fine della follia è il suicidio ma non è il finale del film e qui perdo qualche minuto a spiegarvi due cose la prima il tema bambino adulti un tema che argento svolgerà in suspiria in cui la protagonista Susie Bennett è un adulta è una bambina scusate vestita ad adulta qui Silvia si sdoppia in due Silvia adulta e Silvia bambina vedete come Barilli continua a anticipare argento e questo è un merito che che nessuno attribuisce a Barilli ma Barilli è un giusto che nel loro ha dato tanto altro tema è il suicidio il suicidio è la fine dell'irrazionalità perché come può questa protagonista vivere nell'irrazionalità l'uomo non vive nell'irrazionalità non può perché l'uomo non è essere pensante l'uomo vive nella sua razionalità materialista quando questa razionalità viene spazzata via è ovvio che l'unica soluzione finale è il suicidio questo è un altro particolare agghiacciante quando l'uomo si è totalmente annullato l'unica cosa che gli rimane è la morte ed è questo che fa paura fa veramente paura però non è la fine il film non finisce qui ma qui finisce quel disorientamento visionario qui finisce il tunnel di visioni ma non è la fine del film il film non finisce con la protagonista che muore perché non può finire così il film perché il film non è irrazionale il film fa parte del mondo razionale quindi deve avere una spiegazione queste visioni devono avere una spiegazione e il film non può finire col suicidio di Silvia perché tutti gli altri protagonisti di questo film tra cui il fidanzato di Silvia sono rimasti nel mondo della realtà e per loro la vita continua e il film deve continuare per forza obbligatoriamente il film deve continuare e qui sono rimasti da descrivere gli ultimi 5 minuti di film avviene il colpo di genio credo che questo sia uno dei finali che dopo profondo rosso è un finale tra i più belli del mondo per quanto questo artista e questo film siano sconosciuti questo è un finale veramente tra i più belli tra i più belli che io abbia mai visto perché ti catapulta fuori fuori dal disorientamento ma la fa violentemente perché dopo la scena del suicidio e tu spettatore sei provato a credere che quella sia la fine del film perché tu spettatore ti sei annullato come Silvia a un certo punto negli ultimi 5 minuti di film vedi invece il mondo razionale ma tu spettatore non lo riesci a capire e non lo capisci finché non arrivano i titoli di testa quei 5 minuti cosa scusate quei 5 minuti finali dal suicidio di Silvia al vero finale del film tu sei disorientato non riesci subito a tornare al mondo del razionale e solo dopo ti accorgi che il film ha seguito un'altra linea ha seguito totalmente un'altra linea ma tu sei stato convolto dalla linea dell'irrazionalità che non faceva parte in realtà della trama del film non c'entrava niente la trama del film cos'è stato veramente in due righe di trama ed è la parte razionale ma noi siamo attratti da quella irrazionale e poi non ci capiamo più niente perché il finale è veramente qualcosa di eccezionale Silvia il corpo di Silvia ovviamente viene scoperto dal fidanzato perché comunque si è suicidata quindi fin qua siamo tutti d'accordo che essendo Silvia un personaggio la realtà non scompare il ragazzo poi dopo aver fatto ovviamente i funerali e la ragazza la porterà in un luogo in un luogo totalmente diciamo degradato particolare strano luogo che abbiamo già visto nel film perché a metà del film in questo luogo noi lo vediamo lo vediamo però non riusciamo a capire che cazzo sia questo luogo perché 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 noi siamo presi da questa follia irrazionale di Silvia e siamo in empatia con questo personaggio di questo spazio di questo luogo degradato con dei personaggi loschi non ce ne frega niente perché non lo riusciamo a capire perché ci siamo talmente annullati talmente rincoglioniti scusate il termine poco filosofico che questo capannone questo luogo non ci dice niente diciamo boh ma alla fine quando riprendiamo la nostra razionalità capiamo che cosa sia quel capannone capiamo quello che stanno facendo capiamo quello che stanno facendo non posso svelarvi la scena finale perché ovviamente rovinerei il finale ma questo capannone inserito capannone tra virgolette luogo degradato inserito in età del film è uno di quegli indizi razionali che il protagonista ci dà un altro indizio razionale con questo vi porto sul finale che non svelerò è il fatto che il vicino di casa di Silvia e Silvia adorava questo vicino viene un giorno a casa un giorno di pioggia con una sportina con all'interno il cibo dei gatti questo vicino va dei gatti però il regista zooma in mezzo il cibo per gatti vi è un dito vi è un dito umano questo è un dettaglio della trama razionale inserita all'interno di questo vortice razionale noi non capiamo niente di più perché c'è sto cazzo di dito che ci sta a fare cioè cos'è il vicino si è sbagliato a tagliarsi un'unghia tagliato tutto il dito no no tutto si svelerà nel finale quando noi siamo in grado di riprendere la nostra razionalità e quindi siamo in grado di capire tutto e così sarà profondo rosso un film che ci disorienta completamente ci porta a far capire una cosa invece di un'altra e solo alla fine noi capiamo tutto ed ecco la bellezza e concludo qui questa recensione e qui la bellezza di Barilli quella di aver preso i temi argentiani le matrici argentiane perché l'ha visto nella età la follia il trauma Argento li aveva già presi in esame però li rinnova in un nuovo linguaggio cinematografico in un nuovo linguaggio visivo e anticipa sia profondo rosso che suspiria di Argento è ovvio che qui le musiche per quanto siano belle sono inferiori a quelle dei Goblin ovviamente quindi sono inferiori alle musiche argentiane ma sono delle musiche molto belle molto intense atmosfere molto jazz che ci catapultano ancora di più in questo mondo dell'irrazionalità dell'irrazionalità e questo è il profumo della signora in nero non si trova su youtube questo lo potete scaricare in streaming in torrent scusatemi neanche in streaming si trova lo potete solamente scaricare in torrent se cercate su google il profumo della signora in nero tnt forum è lì con una piccola iscrizione potete scaricarvi potete scaricarvi questo film potete scaricarvi questo film bellissimo bellissimo perché perché Barilli è riuscito veramente a interpretare una visionarietà è riuscito a creare un nuovo linguaggio cinematografico un nuovo linguaggio della visionarietà ed è una visionarietà che fa paura questo film è horror non tanto per il finale perché sì il finale fa paura perché parla di una tematica che fa paura chi lo vedrà capirà però non è tanto il finale che fa paura ma quanto il disorientamento e l'annullamento all'interno della relazione è questo che fa più paura all'interno perché il finale sì può far paura può mettere angoscia può mettere agitazione ma mai quanto mai quanto questo vortice di razionalità comunque il finale se chi non se lo volesse vedere questo film lo trovate su wikipedia se cercate il nome del film su wikipedia vi porta anche il finale finale che posso dirvi un altro indizio è collegato con le sette nere di cui sette di magia nera di cui parlava il sociologo all'inizio sette nere che avevano fatto proprio ritornare il trauma infantile di wikipedia avevano aperto le porte verso questa irrazionalità per cui vi consiglio questo film perché Barilli è un regista proprio totalmente sconosciuto ma che è un innovatore di linguaggi espressivi e la paura ha bisogno di nuovi linguaggi espressivi per essere ovviamente per essere capita dall'uomo e con questa frase io vi saluto vi ringrazio per aver visto questa recensione come vedete dura meno di dura praticamente meno di 30 minuti mi sono dilungato ma non riesco a essere conciso sono logorroico ancora prima di aver compiuto tant'anni comunque a parte questo vi ringrazio ringrazio ancora quelli che stanno credendo al mio progetto vi saluto e ci vediamo ovviamente alla prossima recensione ringrazio ringrazio